Ciao a tutti ragazzi, io sono KiloGeek e oggi sono qua con MZTandre, mio cugino, e faremo il primo video con mio cugino. Andremo a giocare in Raid Sfascia Carroze. Io non tolgo che vuol dire mille volte, però. E metteremo la Star Power di Leon della Cura. Sì. E giochiamo già. Eh? E giochiamo già. Che difficoltà è? Smodata. Smodata 2. Scusate per la tirata su del naso. Per me non ce la faremo. Anche per me. Però forse c'è sua probabilità. Sì. Raga, allora, cerchiamo di caricarci la ulti che serve molto, vedrete quando il robot diventerà. Adesso l'ho fatto un po' per fare... Andrea, sei già morto? E sai che Raid non son bravo? Allora, cerchiamo con le on. Io sono più bravo in sopravvivenza e potrebbero voler. Cerchiamo di... Cerchiamo di... Però cerca di sopravvivere. Oh, il power up, lasciami, lasciami il power up. Prendi, 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 prendi. Però non suicidarti dentro... No, ho usato... Ho usato l'ulti... Ho usato l'ulti della vita. Con quella roba che l'ultima volta che ho mandato insieme, mi sfideva tutto con quello. Greco, tra poco il boss avrà qualche fluenza. Beh, dai, mi libero un po' dei robottini là. Con un colpo di shot. Lasciami il power up. Ah, me lo lascia. Me lo lascia. Ma chi è sto Anthony? Bravissimo. Andre, non devi stare vicino. Ma non devi stare vicino ugualmente. Guarda, io sparo da abbastanza lontano e mi metto dietro me. Perché le on è più lungo di Celli. Eh, ma è la... È la stessa cosa. Fa poco dovevo nascere. Allora, raga, io parlo per me. Ho anche i gadget di Celli. Ehm... Oh, cazzo. Ehm... Lo uso soltanto quando... Il boss, cacchio. Si influencerà. No, no, no. Infurierà, non influencerà. Andre, leggi bene. No, no, non lo devi usare là. Quando il robot diventa leggendario. Andre. Ah, ok. Però qua c'è scritto influencerà. No, c'è scritto infurierà. Ok, usiamo la... Vedete che serve un casino la... Andre, non farti uccidere così. Non c'è connessione. No, non c'è connessione. Eh, si vede. Vabbè, raga, cerchiamo di distruggere il robottone. Uh, ce la scampiamo. E' un po' di più, però. Il power up, lasciamelo. E non ce l'ho io? No, te. Il mio amico. Ho cinque power up, raga. Dobbiamo riuscire... Ma che lo conosci? Eh, non lo so, ma mi sta lasciando il power up. È gentile. No, no, no. Non morire già, Andre. Eh, non lo so, ma mi sta lasciando. Tutti fanno qualcosa, ecco. Tutti fanno solo il telefono. Ok, sei power up. Vedi che il robot... Vedi che c'è... Vedi che... Il gadget, Andre, usalo quando il robot si scatena. Boom. È voleta. Grego power up. Lo so, aspetta. Aspetta. Sei schiattato? Sto schiattando. No, no. E' venuto nel soppietto vicino. Quanto l'odio questo boss. Eh, pensa quando si scatena. Pensa quando si scatena. E' peggio di... E' peggio di quello di Super Mario. Attento. Quello di Super Mario. Vabbè. Eh, no, pensa quando si scatena. Andre, fa il devasto. Dico, non hai anche tu connessione. Tu ce l'hai connessione? Sì, ma io adesso scappo con la mia... Io scappo con la mia... Ma come? Come faccio a giocare così? Non ho connessione. Come non hai connessione? Sì, ma io scappo con la mia... Speriamo che il colt... No, colt! Non farmi uccidere a me che ho sette power-ups. Faccio mille di... Di colpo. Ma con chi stai parlando? Con il telefono. Con chi sto parlando? Usa la ulti. Fatti inseguire. Fatti inseguire. Fatti inseguire, Andre. Fatti inseguire. Ecco. Ciao, vieni qua. E poi decidi non morire. E non devi morire. Fatti... Ecco. E poi lascio, me lo mandi da me. Il robot è diventato scatenato e adesso siamo morti, ti avverto. È leggendario. È leggendario, raga. Togli le duemila! È impossibile! Ma che siamo in posto! Raga! Se mi sciotta, se mi sciotta di nuovo, vedo cosa li faccio. Eh, vedo, anch'io vedo. Vedo, vedo, lo dico con la fortuna è su noi. Non è stato... Aiuto! Grazie, Andre, di avermi salvato! Uh, co, oh! Uh, raga, cosa ho fatto? Raga! Adio! Grazie! Grazie, compagno! Sì, lo sto andando a prendere! E io, mi chiedi di ringraziare, ti ho portato via il boss! Sì, grazie! Ecco. Però, adesso, bambiati, mi suicido sempre! Ma dov'è il colto? È morto? Sì, anche lui è morto! Continuate a morire! 9 Power Up! E gli schiedi sono giustificati per te! 9 Power Up! Cioè, faccio un casino di danni, raga! Schiappa, 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 schiappa! Non posso perdere, faccio... Ah! Porch! Oh, c'è anche io, Gregorio! Uff! 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 Cazzo, ma! Mi sei criticato io! Che amica, Ander! Attento! Ma che... Andrea, ma che voce stai facendo? 10 Power Up! 10 Power Up, raga! 10 Power Up! 10 Power Up! 10 Power Up! I robot leggendari! Era... No, non c'ho ancora connessione! No, se ce la facciamo qua! Se ce la facciamo! Andre, portami via il robot! No, non c'ho connessione ancora! No, 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 no! Non c'ho connessione! Sono ancora morto, ce l'ho! No, Gregor, se qua muori! Se qua muori! Attenso! Attenso! Mi dà criticato! No! Scappa! No, non c'ho connessione! Tassio! Ma che voce stai facendo? Ecco! Uff! Non c'è un culo! Scappa, scappa! Diccio, scappa! Madonna! E vabbè! Raga! Sprovvivenza? Ma tu ce ne facciamo un'altra partita! Ne vuoi fare un'altra? L'ultima di raid o sopra... No, io penso tu stavi facendo intanto un'altra partita! No, facciamo l'ultima di raid e poi basta! Ok, però fai di mettere uno veloce che è così! Metto il primo, va! No, il primo no, Andre! No, 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 no! Ma hai capito che non devi andare vicino all'avversario? Che... Eh, ma tu ti tagli ancora di più! No! No! Ego! Eh! Ci sei? Sì, ma dobbiamo far tanti danni all'inizio, ecco, abbiamo nel primo, abbiamo già perso dalla partita! Arrivo io, trovo a mettermi le cucchie, aspetta! Eh? Sì, ma me lo tagli anche qua? Eh? Raga, mi sa che taglierà la parte iniziale del video, se speriamo in dieci minuti, quindi se trovate solo un pochino di parte, mi spiace! Dai, speriamo di morire velocemente! Lasciami power up! Sì, ok, ok, ecco, che bello, sono morto! Dai, raga, mi spiace, se rimarrò solo io vivo, mi suiciderò perché YouTube non ci fa... No, 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 ti prego, no, 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 non parlo! Chiuderò il video tra poco, chiuderò il video tra poco lasciando suspense, come dice la maestra! Ok, raga, tra poco mi spiace che dovrò lasciarvi, ciao raga, a un prossimo video, ciao, iscrivetevi e non lasciate like, no, lasciatevi like, per favore, però per... A 30 iscritti, ciao raga, ciao!